Perfetto, hai analizzato la situazione in maniera perfetta e precisa. Andiamo a giocare su un campo dove l'Olbi ha fatto due vittorie. Anche nella passata stagione ha fatto la differenza le partite casalinghe. Quindi è chiaro che è un campo difficile, un campo non tanto grande, quindi abbastanza stretto, quindi non sarà facilissimo sviluppare. Comunque gli spazi saranno un pochino più stretti. Incontriamo una squadra che comunque è una squadra organizzata, organizzata bene, e che ha anche qualità soprattutto in fase offensiva, perché ha segnato sei gol in due partite in casa. Quindi ha qualità sia in fase di sviluppo, di gioco, ma anche come domenica scorsa dai piazzati, perché c'è Emerson col Mancino e Gian Donato col Destro. Insomma, sono due giocatori veramente importanti e fanno differenza dai calci da fermo, sia direttamente che come assist. Sì, è vero, nel senso che io mi aspettavo domenica scorsa che magari nell'andare dalla partita il fatto di non sbloccare il risultato, la vita del Vese potesse innervosirsi, comunque perdere tranquillità, cosa che invece è partita così. Nel senso che il primo tempo, la cosa che ho... mi sono lamentato con i ragazzi che nel primo tempo dove loro chiaramente erano abbastanza bloccati, non ne avevamo... è sembrato quasi non volessimo affondare il colpo per prenderci la partita subito. Cosa che mi ha preoccupato, perché ero sicuro che nella ripresa qualcosa sarebbe cambiato, come poi si è visto. Però siamo stati bravi e comunque lucidi nel rimanere dentro la partita anche nel secondo tempo dove c'è stata qualche difficoltà in più e nel voler portare a casa il risultato. Domani troviamo una squadra invece che in casa si sente forte, si sente forte dai risultati, dalle prestazioni, ha sempre, diciamo così, raggiunto il risultato anche soffrendo, perché è stata in vantaggio, è stata ripresa, l'ha vinta due volte alla fine, quindi è una squadra che non molla mai e credo che l'aspetto, diciamo così, mentale sia ancora una volta determinante e anche se dal nostro punto di vista vorremmo dare continuità, cercando di crescere di partita in partita, dare continuità, perché la cosa che fa crescere più velocemente una squadra è che dà anche quelle certezze per prendere più consapevolezza dentro il campionato. Più che di atteggiamento, che credo che la squadra in funzione del risultato l'abbia sempre avuta fin dalla prima partita molto positivo, nel senso che ha provato a vincerle sempre le partite, anche facendo fatica, quindi quello mi è piaciuto. La cosa che mi è piaciuta di più di inizio stagione è che siamo partiti molto più avanti dalla passata stagione in quanto ad anima, veramente squadra che sa quello che vuole. La cosa che dobbiamo prendere più consapevolezza è sicuramente la forza delle nostre qualità, la personalità e anche il coraggio di forzare più giocate importanti, anche nei duelli singoli, uno contro uno, per cercare di rompere più gli equilibri. Allora, hanno caratteristiche chiaramente diverse. Cosa cambia? Dipende dall'andamento della gara. È chiaro che la difesa 5 della Viterbese l'omiga scorsa leggermente bassa non abbia esaltato le caratteristiche di Jack, questo sicuramente, cosa che magari Pierini preferisce, comunque sa affrontare meglio, proprio per caratteristiche. Jack è un giocatore più di spazio, Pierini magari è molto più portato per giocare in spazi piccoli, quindi cambia questa caratteristica. È chiaro che per avere le scelte ideali è bello averle entrambi, perché sono due caratteristiche complementari, però abbiamo avuto questo piccolo problemino. Per fortuna sembra che non sia nulla di grave, che è questa la cosa più importante, nel senso che non c'è lesione, in quanto interruzione di fibre è la cosa più importante, perché essendo un giocatore muscolare esplosivo, comunque Jack durante la stagione un paio di situazioni gli capitano sempre, perché tocca dei picchi di esplosività molto alti, quindi è normale che sia più soggetto a queste situazioni, ma per fortuna si è fermato subito e ha evitato stop forzati troppo lunghi. Quindi questo è il dato positivo. Sì, chiaro, lo sappiamo, ma credo che già la passata stagione, ma mai come quest'anno, non vogliamo mai, non voglio una squadra che si pianga addosso, che possa cercare alibi. Io ti dico, arrivo alla partita di domani con la stessa tranquillità che ho affrontato quelle precedenti o quella di domenica scorsa a Viterbo, nel senso che avremo soluzioni comunque per riuscire a giocarci la partita con l'Olbia alla pari. E poi, come state vedendo, in particolar modo in questa stagione, col mega equilibrio che esiste dentro il campionato e dentro le singole partite sarà sempre la sfumatura a fare la differenza, perché sta venendo fuori un girone, secondo me, veramente molto, molto equilibrato. E ogni partita dice questo. Chi sarà più determinato nel millimetro, nell'episodio, nel leggere tutte le situazioni nel modo migliore, porterà a casa più risultati. Sì, allora, la cosa che dispiace, al di là che i turni francesi finali nella stagione esistono, che di solito ne hai uno breve e uno leggermente più lungo, che puoi almeno lavorare qualcosa. Invece giocando sabato, martedì, sabato, sono entrambi corti. Quindi dovremmo essere bravi a gestire certe situazioni, a capire di partita in partita cosa succede per affrontare quella successiva nel modo migliore rispetto alla situazione che avremo in quel momento. No, non credo. Non credo che sia l'ultima, nel senso che sto facendo riflessioni rispetto a quello che dici tu, rispetto al tipo di differenza di partite una con l'altra. Differenza non vuol dire di coefficiente di difficoltà. Non è coefficiente di difficoltà, perché andiamo domani, è una partita difficilissima nel suo modo. Martedì avremo una difficile in maniera diversa. Però sto facendo considerazioni sul tipo di partite che andremo a fare. Questo sicuramente ha maggior ragione rispetto a una situazione numerica che in questo momento è leggermente corta, visto che siamo partiti con quei due o tre defezioni iniziali che un pochino possono togliere qualche scelta. Allora, è un termine che non mi piace perché rischia sempre di passare un messaggio di superficialità da una partita all'altra. Parliamo di considerazioni rispetto a quello che dicevamo prima che devo fare. Nello stesso tempo la cosa che sottolineo che ho cominciato a dirvi per esempio prima e dopo la Coppa Italia che avendo una rosa di questo tipo devo velocemente mettere in pista tutti. Proprio per questo motivo avere tante partite e quindi il fatto la Coppa Italia è stato un esempio ma anche dentro il campionato io devo mettere in pista anche i famosi giovani chiamiamoli così di cui fa parte la rosa perché devono diventare protagonisti in senso numerico devono diventare protagonisti quindi io ho bisogno velocemente di metterli in pista più in numero possibile. Questa è una considerazione che assolutamente rispetto al percorso di quest'anno devo fare. Tatticamente mi è piaciuto perché è un giocatore intelligente è utile poi dentro la prestazione può fare molto meglio ma questo al di là del ruolo cioè nel senso se ha sbagliato più passaggi del solito gli è capitato in passato anche da mediano o da mezzala quindi questo è a livello qualitativo al di là del ruolo può alzare la qualità della sua della sua prestazione però è chiaro che in questa situazione lo sto allenando anche lì poi di partita in partita vediamo insomma cercherò di capire l'utità sicuramente la sua elasticità tattica è un valore aggiunto per me ma per me allora per esempio l'anno scorso a Carpi quando stiamo perdendo io lo metto a fare il braccetto il terzo di sinistra dietro già nel giro non è andata perché è quello che ci auguriamo tutti ma solo ve lo dico qua ci tengo a sottolinearlo solo per creare diciamo così l'atmosfera ideale di lavorare tutti perfettamente non so se mi sono spiegato perché vi assicuro che Mattia sta lavorando alla grande è un giocatore per noi straordinario importantissimo e quindi è un concedetelo un problema un dato che a me in questo momento non preoccupa assolutamente però per il bene di tutti e la serenità del quieto vivere farebbe piacere che si sbloccasse che si sbloccasse che si sbloccasse